La nostra presenza in questa situazione è dovuta al fatto che siamo in tutte le fiere che vengono fatti al mondo nell'ottica da Milano a Parigi a New York e ci sembrava che anche questa prima edizione del Midout potesse essere un'opportunità di entrare a far parte in maniera decisa del mondo del design. Il design è sempre tale, c'è un design dell'Ottocento, ce n'è uno del Novecento, ce ne sarà uno del 2000 e del 3000 e così via, è una continuità. Qui troviamo delle forme che sono storiche, perimetri, perimetrici eccetera, ma in un materiale che è assolutamente in avanti di oggi, è stato usato anche nella costruzione degli ospedali per intenderci, perché resiste anche al fuoco. Definirsi out of significa cercare di non essere banali.